Benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi. Mi chiedo, e qualcun altro se lo chiede con me, ma non si è ancora stancato di interpellarci a distanza di oltre 700 anni? Se lo chiedono Laura Mollica e Maurizio Muraia, due docenti liceali di Palermo. Mollica insegna storia dell'arte, muraglia, italiano e latino. Dal loro sodalizio nasce tante, parla ancora il messaggio della commedia alle donne e agli uomini del terzo millennio. Sono tante le parole che circolano già qua in copertina, le vedete. Gli autori ne hanno scelte alcune, alcune parole chiave. Per l'inferno hanno scelto smarrimento, indolenza, passione, faziosità. Per il purgatorio libertà, appartenenza, responsabilità. Otto per il paradiso. Armonia, comunione, custodia, intuizione. Ogni parola è il titolo di un capitolo. Ogni capitolo ha la stessa struttura. Un brano tratto da un canto, preceduto da una breve introduzione. La sezione vedere il testo, con un'opera d'arte commentata, un dipinto, un'incisione che lo rappresenta, insomma una scultura talora. Un'altra sezione Dante parla ancora, in cui gli autori spiegano e attualizzano. E poi voci del nostro tempo, dove troveremo De Andrè, De Gregori, Gaber, Battiato, Vasco Rossi, come questi grandi cantautori hanno interpretato i temi danteschi. In questa sezione i lettori troveranno anche il punto di vista di intellettuali importanti del nostro tempo, Recalcati, Galimberti, Mancuso, Primo Levi. Entriamo per un attimo in punta di piedi nella spiegazione del decimo canto dell'inferno, dove troviamo Farinata degli Uberti. Dante conosce bene l'odio tra le fazioni. Lo ha sperimentato sulla propria pelle. Conosce bene un certo modo di vivere la politica per il quale l'avversario è il nemico da abbattere. Non esiste ancora il politicamente corretto, esiste il politicamente feroce. Conosce cosa significhi l'accecamento ideologico che non fa più vedere alcuna umanità nell'avversario politico perché quel che prevale è la sete di potere. Sa da dove viene il male che lo ha colpito. Ne conosce l'origine storica che risale alle lotte per le investiture e alla formazione delle libertà comunali di almeno un secolo prima. Ma cosa sta celebrando Dante nella figura di Farinata? Sta celebrando la nobiltà d'animo di un capo politico che è stato capace di tenere la propria patria al di qua di ogni logica vendicativa che non ha identificato la patria con la parte. Monito per ogni tempo. Quindi la risposta alla domanda del titolo è sì, Dante parla ancora e continuerà a farlo alle generazioni future senza mai banalizzare ma con rispetto e cura molli che muragli hanno compiuto un'operazione culturale intelligente e innovativa che ridà smalto, vigore, giovinezza a una figura Dante Alighieri che per molti dei nostri alunni rimane coperta da troppi strati di polvere. Un libro da non perdere. Bene allora grazie anche questa volta mi raccomando veniteci a trovare sempre sul nostro sito web e sui nostri canali social.